Conosci un po' di fisica, Sandy? Se colpisci ripetutamente il pilastro di un edificio in modo costante, crei un ritmo. E l'edificio collasserà su se stesso dall'interno. Gli uomini che hanno fatto irruzione al Watergate non sono la testa del mostro, ma la coda. Tutti gli indizi sembrano portarci dentro la Casa Bianca. Dobbiamo chiudere le indagini. Entro due giorni. Il direttore dell'FBI sta ordinando all'FBI di bloccare le proprie indagini. Nessuno può fermare la forza di un'indagine dell'FBI. Nessuno, nemmeno l'FBI! In tanti anni che ti conosco, non hai mai fatto trapelare un solo segreto. Quello che fai farà crollare tutto il castello di carte. Washington Post? Che è una spia nell'FBI! Questi sono documenti segreti dell'FBI. E ora li hai tu. Sono al sicuro? Nessuno lo è. Abbiamo setacciato ovunque. Fatelo ancora! Loro sentono tutto. Sono qui! Tutti i vostri segreti sono al sicuro con noi. Volete scoprire se il trailer è entrato nella nostra classifica? Visitate il link nell'infobox e commentate sotto al video. Ricordatevi inoltre di cercare Screen Week e di iscrivervi a tutti i nostri social. YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Per ogni notizia sul cinema, sulle serie TV, per il gossip dell'ultima ora e le recensioni delle ultime uscite, non perdetevi il nostro blog. blog.screenweek.it Volete inoltre rimanere connessi anche dal vostro smartphone Apple o Android? Scaricate le nostre app Screen Week e Screen Week TV. Sono gratuite. Ciao!